Boban Kovac, allenatore di questa Sir Safeti Perugia, che si presenta all'esordio in Serie A1 maschile, campionato italiano. È un esordio anche per te? Come state vivendo questa vigilia? Sicuramente è una cosa per tutti noi molto importante. Stiamo lavorando da un po' di settimane e sicuramente ancora non è quello che voglio io, ma sicuramente anche ai ragazzi. Diciamo che è arrivato ora di fare amichevoli, che è sicuramente molto meglio che allenarsi, ma una squadra di buon livello, come Ravenna, penso che è un buon esordio per questa nostra avventura di aulino. È il campionato italiano massimo a categoria, quello che era nei tuoi sogni arrivare ad allenare in questa Serie A1 maschile? Sicuramente, sicuramente. Per me il campionato italiano è sempre quello massimo, anche se ultimi anni un po' per i problemi economici... Qualche campione è andato all'estero? Qualche campione è andato all'estero, ma sempre, come vediamo, Trento, Macerata, Cugno o Piacenza, secondo me sono le più forti squadre di Euro. Qual è la cosa più importante dove concentrerai la tua attenzione per questa Serie A1 nella squadra? Sicuramente è che cambierò qualcosa guardando l'anno scorso, ma per me è importante il gioco di squadra, dopodiché i campioni escono fuori. Per me è quello più importante avere una squadra che vota per ogni punto, che non si rassegna mai e che voglia vincere una partita.